Quota 100 fa tappa anche a Firenze nell'incontro targato Lega che ha visto tra i protagonisti principali all'hotel Mediterraneo il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina e coordinatrice della Lega per la Toscana. Noi siamo di fronte a una richiesta imponente, considerate che ad oggi con Quota 100, Opzione Donna e Ape Social siamo circa 100.000 persone, anzi più di 100.000 persone che in qualche modo hanno fatto richiesta di andare in pensione, Quota 100 solo invece è circa 87.000 persone, siamo di fronte sicuramente a un ricambio generazionale epocale perché oggettivamente questo per il circuito positivo che può creare sicuramente le aziende o assumeranno o in qualche modo troveranno invece spazio per aggiornarsi e rendersi efficaci su quello che è Industria 4.0. Ma il sottosegretario ha anche parlato delle prossime elezioni comunali ormai alle porte dove la Lega mira a strappare alla sinistra altri comuni della Toscana tra cui Firenze. Il sottosegretario è messo sdoganato, penso che l'anno scorso abbiamo sdoganato alcune città importanti insomma quindi credo che Firenze è la nostra portata e le politiche che noi stiamo facendo anche nazionale ma anche locale possono dare sicuramente le risposte di un nuovo sindaco che merita anche Firenze. Ancora mancano le ufficializzazioni ma nei prossimi tavoli arriveranno i nomi anche per Firenze, Prato e Livorno. Noi abbiamo schierato in tutti e tre i capoluoghi e anche negli altri centri importanti sopra i 15.000 abitanti candidati della Lega spendibili, credibili e pronti. Il tavolo nazionale sarà convocato la prossima settimana però lunedì c'è un consiglio federale e quindi a Milano a cui io parteciperò e lì sarà un'altra occasione per fare il punto. Facciamo un appello comunque agli alleati, a Forza Italia e Fratelli d'Italia con cui governiamo tante città in Toscana col centro-destra e governiamo bene in maniera compatta, stiamo facendo tantissime cose buone per i cittadini e queste cose le vogliamo fare anche a Firenze, a Prato e a Livorno con lo schema con cui abbiamo sempre vinto. Quindi un appello rinnovato agli alleati all'unità.